Era annegato a soli 5 anni nella piscina privata del giardino accanto a casa a San Zeno, ma i vicini, una coppia di cinquantenni e aretini, non hanno alcuna responsabilità nella tragedia. I due sono stati infatti assolti dal giudice monocratico Ada Grignani per non aver commesso il fatto. Era il primo pomeriggio del 27 maggio 2017 e la tragedia sconvolse l'intera città di Arezzo. A seguito della morte del bambino era stata aperta un'inchiesta per far luce sulla vicenda e comprendere se vi fossero o meno responsabilità penali. Quel maledetto giorno il piccolo si era introdotto nella proprietà confinante a quella di casa sua per giocare con un altro bimbo, il figlio della coppia finita sotto inchiesta. Si tuffò in piscina e qui venne colto da un malore. L'amichetto si tuffò anche lui tentando di salvarlo. Poco dopo accorsero anche genitori ed operatori sanitari del 118, ma purtroppo per il bimbo ogni tentativo di soccorso risultò vano. L'inchiesta coordinata dal PM Laura Taddei ipotizzava carico del proprietario della struttura che quel giorno era stata scoperta dal telone dopo mesi di stop il reato di omicidio colposo, mentre per la coppia era stata paventata l'omissione degli obblighi di vigilanza del minore. Nel febbraio 2020 il proprietario della struttura venne condannato a due mesi e venti giorni. Nel processo è infine parte civile la famiglia del piccolo, assistita dall'avvocato Fabio Appiano.